Sai com'è, Crozza e tutti quanti gli altri, ma fa bene perché fa umorismo, io credo che la gente dobbiamo anche accettare l'umorismo perché chi non accetta lo scherzo, la battuta, l'umorismo non è normale, io sono uno che accetta queste cose qui perché fa parte anche di voi giornalisti dovete pure lavorare voi e io credo che è giusto che io vi rilascio delle interviste, sbagliato o magari qualcuno ci ride perché non ci ho messo la O o invece ci voleva la A perché sono un ruolo di ortografia, ma se io ero un professore non stavo a fare il parlamentare ma andavo alla cattedra a insegnare italiano, siccome non lo sono, ahimè faccio questo lavoro. Va bene caro? L'importante è che ti ho dato una buona intervista e speriamo che con questa intervista ci puoi lavorare così anche per te c'è la pagnotta.